Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World Evolution Già sto ridendo ragazzi Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale e se i nuovi Lascia l'hashtag Jurassic World Evolution qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E noi oggi andiamo a fare una cosa molto particolare Voi volete vedere delle sfide vere tra dinosauri? Oggi vi voglio far vedere una sfida molto simpatica I dinosauri che faranno una partita di calcio ragazzi E quindi andiamo direttamente sul campo di battaglia Ok ragazzi sta iniziando la partita tra T-Rex contro Spinosauri Come avete letto dal titolo ragazzi Una partita di calcio in interrotta vediamo già che il T-Rex sta in vantaggio Possiamo vedere che si stanno cappottando e dando tante botte infinite Guardate che roba Mamma mia ci sta una pressione dei T-Rex contro gli Spinosauri Cominciano a esplodere i dinosauri Stiamo vedendo la battaglia più epica di sempre ragazzi Per un pallone Esplodono T-Rex Si stanno mozzicando in maniera assurda C'è un pressing di quel pallone Esplodono anche tra loro gli Spinosauri Non so che cosa sta succedendo Ho visto un T-Rex stendersi malamente Guardate che pressing Mamma mia tra un po' gli daranno patta e esplodono tutti Guardate eh Bellissimo stanno avendo un po' di vantaggio gli Spinosauri Stanno pressando un pochino guardate ragazzi Stanno cominciando a fare del pressing pesante La palla comincia a muoversi Comincia a liberarsi Mi sa che gli Spinosauri prendono vantaggio E fanno Gol no Hanno fatto gol il T-Rex Che cosa mi stai dicendo Il loro sacrificio non è stato vano Il T-Rex parte con l'attacco immediatamente Comincia il combattimento ragazzi Il pallone non si muove da lì Ci sono di T-Rex che stanno pressando al centro Per liberare la palla E la palla comincia ad avanzare Cominciamo a vedere Spinosauri scoppiare Uno Spinosauro ha spinto via la palla E adesso sta dal lato dei T-Rex Ok possiamo vedere che vanno tutti i compatti insieme E stanno spingendo Uno tira la testata Spinosauro mette al centro Ok ha preso un palo clamoroso ragazzi Ce la possono fare Il T-Rex ribaltone E da porta sua va a fare un altro gol E stiamo già 2-0 ragazzi 2-0 per i T-Rex Stupendo All'altro gol e vincono i T-Rex T-Rex è sempre aggressivissimo Un inizio di pallone Sempre molto cattivi Ci piace Ok Vediamo gli Spinosauri che questa volta Provano ad andare avanti E il T-Rex non riesce ad arrivare Perché ha le zampette corte alla palla La palla si trova davanti alla porta Se il T-Rex sbaglia a toccarla La fa entrare lui È riuscito a deviarla con la testa Grandissimo Altro che Ronaldo Esplodono teste Cominciano a volare pezzi Mamma mia che massacro Vedo un T-Rex L'ha steso Vedo pezzi volare verso il pallone E tanti Spinosauri che circondano Quei due poveri T-Rex Probabilmente ci sarà un ribaltone Vediamo un po' Lo Spinosauro cerca di prendere il pallone Con la sua bocca Ma non è molto facile Anche con le sue zampette corte Riesce ad allontanarle E questa è un'ottima azione Sinceramente per i nostri Spinosauri Stiamo vedendo veramente un'ottima battaglia Il T-Rex con le sue braccette corte Ci sta provando Ma gli Spinosauri Sembra recuperare il terreno Sono rimasti solo Spinosauri sul terreno Ora vincono per Un complesso di squadra Hanno soltanto loro Guardate che roba È un trenino Il T-Rex sta per esplodere male Vediamo un po' Sta per essere circondato Degli Spinosauri Che hanno fatto gruppo Sinceramente non me l'aspettavo Molto cattivi Che hanno provato Gli Spinosauri hanno provato A fare un gol al T-Rex Non ci sono riusciti Attualmente stiamo ancora 2 a 0 Per i T-Rex Ne è rimasto uno solo Se non vincono così Che ne vuole eh Adesso vanno a sbattere Uno con l'altro E non riescono a far muovere la palla Guardate eh Ne sono quasi sicuro Si stanno tenendo il pallone Due degli Spinosauri Lo devono cappottare Guardate Cappottano il loro compagno Gol No Si è fermata sul palo Che sfortunati Cioè sono rimasti solo loro E non riescono a far gol È qualcosa di incredibile Questa è la battaglia Del secolo Ragazzi Ma dopo non vi preoccupate Ne faremo un'altra Con altri dinosauri Sicuramente Vai Siamo pronti a vedere Non so che stanno facendo Si stanno combattendo Tra di loro Non si tira così Ok è stata messa al centro La lisciata E seppure ha cappottato Che cosa hai creato Cioè non so che cosa ha fatto Questo La porta sta lì Ce la potete fare Se vi dividete Oh che bel calcio Mi è piaciuto Che liscio però Dai Ragazzi Avete fatto tanto Per eliminare la squadra avversaria Che è in mille pezzi Sul terreno E non riuscire a fare un gol Siamo seri Guardate che nabbi Cioè Stanno facendo un casino Non riescono a fare un gol Dai che sta là alla porta Un tiro No Il tiro di testa Non è riuscito La palla è ancora centrale Forse adesso ce la fanno Dai ce la vede là A porta vuota Eh che diamine Non ce la faceva dal porta vuota Stiamo 2 a 1 comunque La partita comincia a farsi Sempre più intensa Avviciniamoci al T-Rex Che sempre di cattiveria Spinge immediatamente il pallone Lo spinosauro Ha spinto via il pallone E poi ha fatto un bellissimo fallo Sul nostro T-Rex Ok T-Rex ci riprova Lo fa passare dietro gli spinosauri Che distratti Vengono mozzigliati dal T-Rex Alle spalle E questo porta il T-Rex In vantaggio Perché uno degli spinosauri È già Molto Ok Gli spinosauri cercano Di difendere il pallone Vediamo se riescono Ad allontanarlo Lo allontanano Questo potrebbe dare Una grande possibilità Gli spinosauri Che stranamente Essendo anche un pochino Più grandi Sono più veloci Dei T-Rex Che sono molto goffi Ok Questo pallone È in attesa Di tutta la squadra avversaria Guardate che roba Molti spinosauri Si sono tenuti in pesa Quindi vuol dire Che si stanno preparando A un contrattacco Dei T-Rex Anche perché effettivamente È il primo che sta arrivando là Quindi potrebbe fare Una bella svirgolata E allontanare il pallone E invece no Lo spinosauro Riesce a dare una botta E la manda Verso il centrocampo Tutti I nostri T-Rex Hanno fatto Uno spostamento a destra Per allontanare la palla Il problema è che adesso Stanno in vantaggio Gli spinosauri Perché stanno davanti Anzi stanno dietro Ai nostri T-Rex C'è un T-Rex Che sta frenando Non so per quale motivo È riuscita ad allontanare la palla Così rivanno in vantaggio I nostri T-Rex Che cominciano a mozzicare Tutti gli spinosauri A farli esplodere Potrebbe essere La botta finale Che li porta a vincere Bisogna vedere Se riescono ad allontanare O non si incartano Come al solito I nostri spinosauri Mi sembrano che si stanno Incartando sinceramente Uno spinosauro Allontanato con una bella svirgola Ci è piaciuta Ok Possiamo rivedere Che la palla è di nuovo Abbastanza angolata Qui ci sarebbe Un bel colpo Svirgolato Del nostro spinosauro Tirato verso la porta Dei nostri T-Rex E potrebbe essere Una vittoria di quelle Slamorose Eccolo qua Il rimbalzone Messo al centro Messo al centro Agli spinosauri Sì però sono lenti Non ce la fanno Non ce la fanno A recuperare il pallone Ok Che battaglia entusiasmante Ragazzi Sette minuti Di puro piacere Dinosauri Dinosauri Che giocano a pallone E si mozzicano Uno con l'altro Per un pallone Hanno fatto gollo Con un pezzo Di carcassa Oh Spinosauro mette al centro Oh La trova di testa 2 a 2 Clamorosa Una battaglia Clamorosa Siamo al pareggio Questa è la partita Del match Vai Vediamo un po' Questa Confermerà la vittoria Di una delle due squadre T-Rex O spinosauri T-Rex Cercano di svirgolare Ma non ce la fanno Perché vengono Sopraffatti Dallo spinosauro Un T-Rex Si è tenuto indietro E ha bloccato la situazione Ma gli spinosauri Sono molto più aggressivi Eccolo Che tiro formidabile In avanti Palla centrale Palla centrale Adesso Chi arriva per primo Dovrebbe prendere il pallone Lo prende prima Lo spinosauro Quindi fa una svirgola Dovrebbe riuscire a evitare Il gol Dei nostri T-Rex Almeno che il T-Rex Non lo spinge Effettivamente Gli sta mozzicando Quindi potrebbe Dargli problemi Ok Vediamo Adesso un rimbalzo Per allontanare No Hanno messo all'angolo La palla Perché non si sentono sicuri Il T-Rex Ci ha provato Di capoccia Ha intercettato il passaggio C'è un T-Rex libero C'è un T-Rex libero No Il tizio Che prima ha fatto Quella bellissima azione Ha rovinato la partita Oh Sta girando Si sta allargando sulla fascia Si sta provando ragazzi La sua testa È un po' un problema Oh Che bellissimo Pallonetto al centro È rimasto un T-Rex Alla davanti E degli Spinosauri Del T-Rex Riesce a sopravvivere Agli Spinosauri Gli Spinosauri Sbagliano Perché si spingono Si fanno autogol Autogol Dello Spinosauro Questa partita È stata Vinta Dai nostri Grandissimi T-Rex Ragazzi Che è la squadra Di luce Andiamo a fare un'altra partita Con qualche altro Tinosauro Un pochino più rapido E inizia una nuova partita Abbiamo i nostri Triceratopi Contro i bellissimi Anchilosauri Che poi non sono Anchilosauri Ma sono quell'altra razza Non mi ricordo Il Triceratopo Il Triceratopo Ci ha fatto la magia Goal all'inizio 1-0 Non ci credo Ha fatto una botta di testa Fantastica al pallone E ha fatto una sorta Di pallonetto Ci riprovano Ehm Beh L'abilità di Triceratopi È ineguagliabile Sinceramente Il colpo di testa Che hanno i Triceratopi È stupendo Ma anche i cosetti qua Se tirano una bella godata Potrebbero allontanare il pallone Però i Triceratopi Sono anche più veloci Che colpo preciso I Triceratopi tirano Dei colpi precisissimi E il problema È che non si sta Annomenando tra lo Per poco la tiravi fuori Oh Che colpo di testa Corri in balzo No I Triceratopi Sono fantastici Questa partita Durerà pochissimo Guardate Il Triceratopo Col vantaggio Vediamo un po Ha alzato la palla Tutti i Triceratopi Stanno puntando Verso la palla Con le corna Guardate che bravi Eh no Sì Ma voi siete scarsi Anche i Rosauri A calcio Non sono buoni I Triceratopi invece Hanno un colpo di testa Fantastico Guardate Mettono al centro E fa gol Partita conclusa Una cosa stupenda Non me lo sarei mai aspettato E ora la battaglia Che tutti vogliamo vedere Raptor Che non messi un po' di più Perché giustamente Sono più deboli Contro i bellissimi Non mi ricordo mai Come si chiamano questi I Stegosauri Roba del genere I Stegosauri Hanno già tirato una godata Guardate i Raptor Tutti insieme Come vanno velocissimi Sono fantastici I nostri Raptor Stanno facendo un giro di campo E stanno confondendo Gli Stegosauri Questa è un'ottima tecnica Potrebbero vincere anche loro Molto velocemente Mamma mia Guardate le sgommate Eh vabbè Esagerati Tutti in gruppo Tutti in gruppo nella porta Entrano Ok È un po' squilibrata Questa battaglia Poverini Dispiace per gli Stegosauri Ok I Raptor Riprovano Andare all'aggressivo Stegosauri Che tirano colpo dritto In porta No Fa gol Ha fatto gol 1 a 1 Non è così squilibrata Gli Stegosauri Hanno una possibilità Perché La bassezza dei Raptor Gli fa sì Che le possono superare Con una codata Guardate i Raptor Come sono aggressive Come vengono schiacciati male Dai nostri Stegosauri Speramente Quasi dispiace per loro Ce n'è uno che è rimasto incastrato Sotto uno Stegosauri Adesso ricominciano col giro largo Quando gli si lascia Al vantaggio ai Raptor E come Brasile Cominciano a correre Cominciano a correre Non li puoi più fermare Eccoli che corrono I nostri Raptor Vai di capoccia Gol Mamma mia Il Raptor Il Raptor è velocissimo Non c'è gioco contro il Raptor Sinceramente Se riesce a passare È la fine E mi sa che pure adesso passerà Vediamo un po' E invece no Stegosauri Pallonetto E riprovano a fare gol Eh però Lì stanno andando due Raptor Uno ha saltato In modo stranissimo No Sì No Si è fatto autocolpe Sbaglio Era riuscire ad allontanare la palla Non ci credo Ok Vediamo un po' Che cosa succede adesso Questa è la Palla della finale Oh guardate i Raptor Come vengono colpiti male Eh sono riusciti a passare In mezzo agli stegosauri Si stanno a mettere all'angolo da soli Però è un problema Gli stegosauri Hanno il tempo di arrivare Potrebbero fermare Tutta la situazione E ci sono riusciti Che stanno uccidendo Anche qualche Raptor Accodate Ok i Raptor Hanno ripreso il largo Quando i Raptor Fanno questo giro Hanno vinto Perché si allargano Di tantissimo Come potete vedere Fanno il rimbalzo Che cosa Stavano sbagliando Si stavano per fare Un altro autocoll E questa è vittoria assoluta Dei Raptor Guardateli Guardateli Che giochi infame Stanno andando Larghissimi Per prendere quella porta Cioè Oh Si sono incastrati Si sono incastrati Però la palla è arrivata al centro Due Raptor Sono lì Sono presenti No che sbaglio Che hanno fatto I Stegosauri Girano in tondo Abbiamo capito Gli Stegosauri Sono l'Italia E quello è il Brasile Guardate che stanno combinando No se vincono gli Stegosauri Per questo sbaglio È il top Oh miseria Che calcio dello Stegosauro Eh si Però gliela ha messa Dall'altro lato L'hai allontanata Invece di tirarla Verso la porta In modo corretto E hai dato un vantaggio Infinito in questo momento Se non si incartano Ecco qua È arrivato il solitario Non è vero Non ha funzionato Bene il cross E quindi adesso Stanno continuando A rifare il loro giro I Stegosauri Sono abbastanza In problema Sinceramente Perché sono molto lenti E si incastrano facilmente Ma i Raptor Guardate quando vanno Tutti in mucchio Che cosa combinano Stanno facendo un casino È da non credere Ok No Lo Stegosauri Si è fatto il gol Da solo Gliela ha alzata Hanno vinto i Raptor E va bene Come avete potuto capire Questo non è la Jurassic World Volevo farvi un piccolo trollino E intanto farvi vedere Un gioco molto simpatico Che si dovrebbe chiamare Beast Simulator O Real Beast Simulator Che costa anche abbastanza poco Lo potete trovare su Steam Un gioco molto semplice In cui si fanno simulazioni Di combattimenti Tra animali Bestie E tant'altro Sinceramente Ci sono anche i Gear Le armi E tanti altri elementi Come i Draghi Addirittura Quindi Questa era una battaglia Un pochino ironica Spero vi sia piaciuta Per oggi Esce questo E non Jurassic World Ragazzi Mi dispiace Ma vi dovevo trollare Quindi Mille like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Lasciate il hashtag Beast Simulator Qua sotto ai commenti Per ricevere un codicino E ci vediamo In un prossimo episodio Di Jurassic World Ve lo prometto E ci vediamo